Ok ci stringiamo un attimino per cortesia, bravissimo, perfetto, bravi ok, aspetta Renato, ok, sa che ne facciamo una anche con la sua macchina? Sì, sì, per favore. Ok, grazie a tutti, ma in Italia ha fatto la valigia? Sì, ma qui ne sono due italiani che l'hanno fatto ancora con le prime valigie che rimandano dopo l'Australia e poi nasce negli Stati Uniti. È andato per molte persone a cosa, eh?